Niente da fare, non riesce a togliere se le da la mente quella testa. Ma chi? Le due gemelle dell'altra sera? Ma no, le suonerie della 48409 compilation. Non sa quale scaricare sul suo telefonino Nokia. Beh, comunque lo capisco, ce ne sono quasi 30, una per ogni lettera. E poi è facilissimo, guarda, basta inviare un sms con per esempio la lettera O che sta per Obsession al numero 48409. Senti qua. Oh, Obsession, la mia preferita. Io invece invio subito la lettera S al 48409 che corrisponde a Salta. Salta, Salta mi piace tantissimo. Io invece non ho dubbi, invio dal mio telefonino Nokia un sms con la lettera B che corrisponde a Broken, al numero 48409. Bellissima. Anche quella, quella è bellissima, sì. Andrea, magari per decidere quale suonerie a scegliere, perché non dai un'occhiata alla pagina 655 di Media Video? Pensa che lì scopri anche come vincere bellissimi telefonini. E più suonerie scarichi, più probabilità è di vincere. Ragazzi, ho deciso. Visto che nella 48409 Compilation ci sono anche le suonerie per Capodanno, io mi scarico Happy New Year che corrisponde alla lettera H. Grazie, Andrea. Happy New Year. Allora, buon anno a te e buon anno a tutti. E' un'altra cosa. In prima visione Italia 1, se fossi in te, giovedì alle 21. Uh la la, la 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 la, hello? Uh! Ah! Uh! Esci con tutti, ma non esci mai da sola. Anna 75, acqua per te. Entra nel mondo di per due, la più grande sms community d'Europa. Migliaia di nuovi amici ti aspettano per conoscerti. Come? E' semplice. Se sei un cliente team Vodafone Wind, invia un sms con la parola amici al 48482. E messaggia con chi vuoi, per due. 48482. Dietro un grande uomo, c'è sempre una donna pronta a salvarlo. Uomo! Dalla Dreamworks Pictures, Simbad. Dal 19 dicembre al cinema. Coltelli tradizionali e da lavoro, una collezione ricca di fascino. Simbolo di antichi mestieri e tradizioni. Prima uscita è il ronchetto valtellinese a soli 3,50 euro. E' una collezione a Shet. Cambia musica al tuo Nokia, con Zed. Invia un sms con OE per Obsession, W per Where is the Love, M per La mia ragazza Mena, al nuovo numero di Zed 48498. Cambia musica, con Zed. Sto malissimo, con questa influenza ho anche la febbre. Non ti preoccupare, ci sono io. Tu riposati e guarisci presto. Aspirinaci, ti aiuta. Grazie alla tripla azione del suo principio attivo, riduce la febbre, combatte il mal di gola e i dolori influenzali. Sai che ora sto proprio meglio? Bene, allora li accompagni tu i bambini in piscina. Il medicinale a controindicazioni può avere effetti indesiderati. Sotto i dodici anni consultare il medico, leggere attentamente il foglio illustrativo. Hai invitato la fidanzata? Sì. Eccola. Qui ci vuole qualcosa di speciale. Tanto cremoso pesco Philadelphia con presaola. Vidrai. Sei proprio una fata. Philadelphia, qualcosa di magico nel tuo frigo. 48492 suonerie da Hit Parade. Monofoniche e polifoniche. Se hai un cellulare abilitato, scarica la tua Hit polifonica. Invia Poli seguito dal numero della Hit al 48492. Esempio. Invia Poli 3. Per una suoneria normale.